Uno dei più importanti giocatori della storia calcistica ganese è Charles Addo Odametei, difensore che fu campione d'Africa con il Ghana nel 1963 e nel 1965. In quest'ultima edizione fu anche capitano. Odametei inoltre due volte partecipò, incluso nella lista dei convocati all'Olimpiadi con il Ghana negli anni 60. Giocò per tutta la sua carriera a livello di club e vinse anche svariati titoli nazionali con l'ACRA Earth of Oak. Esclusivamente per alcuni anni quando c'era il Real Republicans, la scuola di selezionare da parte di Kwame Nkrumah, altrimenti giocò per tutta la sua carriera solo con l'ACRA Earth of Oak. Io vi saluto, questo era Charles Addo Odametei, un giocatore incredibile, un difensore che ha vinto tutto con il Ghana e con il club e ha partecipato anche all'Olimpiadi. Quindi pertanto resta uno dei giocatori olimpici del Ghana. E' che da quel...